Conoscete Sprunchy? Oggi andiamo a cercare le morph di Shinsonic, di Sprunchy è arrivato anche qui dentro Sonic. Riuscirò a non spaccarvi le orecchie con le mie melodie. Rimanete fino alla fine e scopritelo voi, buona visione. Ciao amici, sono Locky e oggi andiamo a trovare tutte le morph di Shinsonic, ma di Sprunchy. Abbiamo Jevin, Oren, Wenda e molti altri. Quindi, andiamo subito alla brescia... Deve non usare una banana. No, la coda di Tails. Abbiamo trovato Shintails! Con quante code? Quante code abbiamo? Oh mio Dio, mi sono bloccato nel tempo. No, non è vero. Proviamoci subito la morph di Shintails. Carina! Guardate come sfrugolano le code. Spero che non scorreggi in questo momento. No, no, ragazzi lasciate like per non far scorreggiare Shintails. Vi prego, no! Non scorreggiare, non scorreggiare! No, no, no! Ragazzi dovete mettere il mio piace! Oh mio Dio, che schifezza! Vediamo se abbiamo questa morph? Scusatemi, adesso, un momento. Ma io mi ricordavo che in questo gioco abbiamo preso un sacco di morph, come Dio Sonic! Perché questa non l'ho presa? Anche quello back non l'avevo preso. Ah, ok, ok, l'ho preso, l'ho preso. Quindi oggi andiamo a cercare la nostra prima morph che assomiglia un po' a Dio Sonico. Proprio me. Ehi, ciao, sono Dio Sonico. Non è una bestemmia. Ma aspettate, sono il Sonic della vita reale. E anche il Loki della vita reale. Se volete vedermi nella vita reale, venite il 3 novembre alle 16.30 a Lucca Comics, nell'area Real Collegio alle 16.30. Ci becchiamo lì per il firmacopie, non serve il biglietto, è totalmente gratis, non serve neanche il libro. A dopo! Quindi dobbiamo andare nel teletrasporto e andare sull'isola. Però sapete cosa? Io voglio andare sull'isola come un vero Dio sa fare. Ok, sto vedendo dove si può accedere all'isola, ma credo che sia abbastanza difficile arrivare sull'isola, perché bisognerebbe andare su queste catene, poi far così. E come faccio a salire qua sopra? Cioè da qua posso salire? No? Cioè se non devo usare il telep... Oh! C'è una morfe nascosta! Abbiamo trovato Nine! Che è Tails della serie, però con le code, con le nove code. Quella di Sonic Prime. Oh mio Dio! Bello! Quante braccia che hai? Cosa ti servono su quelle braccia? Poi c'è un orologio gigante. Che ore sono? È ora di commentare con Nine! Dovete scrivere o tante volte nove, oppure tante volte Tails. Ma abbiamo trovato un altro Shin Sonic, che è Neon Shin Sonic! Oh mio Dio, perché è trasparente? Dovrebbe essere neon e non trasparente. Ci vedo attraverso! È un fantasma blu! E questo pezzo di cacca nero cos'è? No, è quello di Dors! Voglio provarlo subito! Screech! Oh mio Dio! Fai un po' scrisfo! Ok, abbiamo capito che l'unico modo per andare sull'isola è usando il teleport. Otteniamo questa Morph. L'abbiamo già presa? Super Shin Sonic! Come acquisto già? Io ce l'avevo Super Shin Sonic. Torniamo! Dio, Sonico! Che aura potentissima! Andiamo qui dentro? Perché qui dentro dovrebbe trovarsi in mezzo a questa oscuità! Dovrebbe trovarsi... Esattamente, lo vediamo! È uno sprunch! Uno sprunch di Sonic! Proviamo subito lo sprunch di Sonic! Sono io, sono sprunch di Sonic. Sono bianco. Faccio doppio salto. Bene, vediamo se questo fulmine rosso possiamo prenderlo. Ma certo! È Super Sonic demoniaco! Ed è questo, Super Sonic X con l'aura tutta nera. Wow! Cos'è sto casco? Una palla da bowling? Ma è di dorso, anche questo! È questo fulmine giallo? Ti prego, fammi diventare velocissimo. Oh mio Dio, l'ho trovato! L'ho trovato quello che volevo prima! Era Super Shin Sonic! 3, 2, 1! Oh mio Dio! Ha un'ora potentissima! La sento da qui! Oh mio Dio! Rimbalza Super Shin Sonic! Fermati, fermati! Basta camminare, basta! Fermati un attimo! Respira! Ma adesso... Non so, trema tutto lo schermo quando uso Super Shin Sonic! Adesso ritorniamo! Aspettate, posso girare la ruota della fortuna? Gira la ruota della fortuna! Prendi una morph di... Che schifo! Baby Shin Amy, ma ce l'abbiamo già... Dobbiamo andare! Buff sonico? 300 Bobux? No, 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 no! Forse se mettete mi piace lo compro, ma non adesso! Dobbiamo trasformarci di nuovo! Sapete cosa? Vorrei tornare me stesso! Così, ecco fatto! Voglio ritrasformarmi in me! Questo posso prenderlo? No! Sì! King Tales Sonic Shin! Ma adesso ragazzi dobbiamo andare nella zona innevata! La maglietta bianca ce l'abbiamo già? Non so mai se queste morph l'ho già preso oppure no! Ma io mi ricordo di averlo preso! Shadow con i fulmini rossi! Ma vedo un altro fu... Ecco, non devo neanche equipaggiarmi la morph, ce l'ha già lui! Eccolo! King Shin Tales! Adesso dobbiamo andare nella zona innevata! Quindi prendiamo questo fulmine innevato! Niente, era di super dio sonico! Questo era del hacker! Ma ce l'avevo già l'hacker! Ma perché ogni volta... No! Ma dove mi sta portando? No, sull'isola! Questo qui cos'è? Trovato un altro morph, mio Dio che paura che fa questa! Dobbiamo andare nella zona innevata! Quindi andiamo nella zona innevata! Tu tu tu! Prenderò freddo i piedini! Lo so già! Lo so già che prendo freddo i piedini! Ma può salire su questo blocco di ghiaccio? È un finto blocco di ghiaccio dai! Non si può neanche toccare! Però possiamo arrivare qui! Guardateli! C'è Baby Rouge, Baby Amy, Baby Sonic... Oh, un toilet! Ok, prendiamo il Toilet Sheen Sonic! Eccolo! È questo qui! Siamo nella zona... Innevata! Abbiamo trovato la seconda morph di Sprunky! La proviamo subito! La morph di Sprunky! Jevin! Oh mio Dio! Ma è velocissimo! È velocissimo! Non sono abituato a questa velocità! È troppo veloce! Aiuto! Cos'è questo? È Pibi! Ce l'ho già! Dun 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 dun! Questo ghiacciolino era Sonic ghiacciolo! Ce l'avevo già! Mamma mia, quanto è veloce! Oddio! Questo non ce l'avevo! Black Sonic coi fulmini! Cutnap! Abbiamo trovato uno Svalent Critter! Chissà se aggiungeranno i nuovi Nightmare Critters! Quello cacca! Voglio quello cacca! Quello cacca! Ah, ti sono una cacca in testa! Ma come faccio ad arrivare là sopra? Ragazzi, non lo so proprio come si arriva là sopra! Mi serve un salto più alto! Ma ora andiamo, teletrasporto, cime degli alberi, quindi nella giungla, perché nella giungla ne sono sprunchi! Tuzzi, tuzzi, tuzzi! Dobbiamo trovare un'altra mo... Oddio, questa cos'è? Oh, bellissimo! No, questa è la migliore che abbia mai visto! Tails di Pibi! Quello glicciato! Che occhio luminosi che ha! Ciao, sono Tails di Pibi! Andiamo, andiamo, andiamo! Anche lui mi sembra molto veloce! Moltissimo veloce! C'è una morph nascosta qui! Nooo, è quello di Fall Guys! Inciampo sonico! Stumble Guys! Oh mio Dio, quanti caccioli! La morph dovrebbe trovarsi qui da qualche parte... Speriamo di non inciampare, perché questa morph si chiama inciampo sonico! Wuhuu! Abbiamo trovato un'altra morph? Che cosa sei tu? E puuuh, la cacchina! Però sapete che non riesco a trovare quella che ci serve a noi? Ho trovato la zucca di Halloween! Buon Halloween a tutti! Zucca! Oh, abbiamo tirato i pipistrelli, aiuto! Ah, non posso trasformarmi! Ogni volta che ci clicco ci sono i pipistrelli! Ma perché io volevo i pipistrelli? Oh mio Dio, sono diventato mai gigante! È Shane Sonic di Halloween! Oh mio Dio! Enorme! Uuuu! Oh 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 oh! Che ti ridi! Una sega! Dimmi che è di Shane So Man! Ma siamo crashati? No, siamo crashati! Ho capito perché forse sono usciti i pipistrelli! Perché è buggata questa morph! Quando te la metti poi laghi tantissimo e non puoi più far niente! Visto? Senza possiamo fare le cose! Conne non riusciamo a fare niente! Non mi dire che esiste Shane Sonic! Di Shane So Man! Fammelo trovare subito! Eccolo! Ragazzi, se vi ricordate Shane So Man scrivete Pocita! Se vi ricordate di Shane So Man... No, ho trovato anche Sonic senza testa! Però ci serve qualcuno che salta un pochino più di questo perché non riesce a fare i salti bene, poverino! Riesce a tagliare le montagne ma non riesce a saltare! Quindi ci rimettiamo lui! Qui in giro, tornando a parlare di Sprunchy... Stavamo cercando lo Sprunchy... Trovato! L'ho trovato! Lo Sprunchy Avocado! Ma come faccio ad arrivare lì? Ma allora avevo notato bene! Dobbiamo diventare God Sonic perché è il più veloce di tutti! Dio Sonico! Guardate! Uhu! Mamma mia che salti che fa! Dio Sonico! Va bene, rimarremo Dio Sonico per tutto il video e per sempre ogni volta dobbiamo prendere una Morph perché è il più veloce di tutti e fa anche super salto in alto! Prendiamo anche questa Morph... No, Sonic del Film! Voglio provare Sonic del Film! Sonic del Film! Ma com'è questa? L'ho comprato... Come compra ora? Ah, abbiamo preso Super Sonic del Film! Wow! Ma adesso voglio anche... Oh, anche questo salta tanto, eh! Oh, quanto salta! E questa Morph? Che cos'è? Shin Emi! Wow, che schifezza! Quanti fulmini lascio a sto coso! Quindi possiamo prendere tutte le Morph qua sopra? Uh! Abbiamo trovato quella di Dog Day! E qui c'è uno smeraldo verde gigantesco che è... Ah, ok, va bene, abbiamo capito! È Sonic del Film! Quindi forse le evoluzioni Super ci permettono di fare dei salti molto più gra... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questo lo stavo cercando! Lo stavo cercando, giuro! È Tails con tutti gli smeraldi del caos per diventare Super! Eccolo! Ce ne sono soltanto quattro che è Sonic... Knuckles, Emi e Tails! E abbiamo trovato... Te... Oh mio Dio! Quanto sbrilluccicano! Quanto sbrilluccicano! Non salta tantissimo ma gli smeraldi sono fatti benissimo! Quasi quasi mi viene voglia di... Leccarle! Non so perché sembrano caramelle! Qui ne abbiamo trovato Lime Sonico che è lui di Sprunchi! Oh anche questo è velocissimo eh! È più veloce di Dio Sonico! Quindi qua possiamo prendere tutte le altre morfe che ci mancavano che ci servivano nel super salto! Questa cos'è questa nera? Black Knuckles! Knuckles X! È dalla cima di tutta la mappa delle morfe di Shinsonic! Quelle le ho prese! Questa falce nera però non posso prenderla! Però sappiamo dov'è! Che carino! Abbiamo trovato tutte le... Bow! Morfe di Shinsonic anche oggi di Sprunchi! Quindi ci vediamo in un prossimo video! Non fatevi mangiare dal cane! E invece sì! State entrando! Siete... Vi ha mangiato? Sì! Sento masticare! Ciao!